Grazie Presidente, io intervengo con particolare piacere in occasione del dibattito su questo provvedimento perché l'impegno dei Fratelli d'Italia in materia di legittima difesa è un impegno che parte da lontano, non a caso già nella precedente legislatura vi era una proposta di legge depositata dal nostro gruppo parlamentare. Noi voteremo a favore, lo dico sin da subito, questo provvedimento con qualche rammarico, con il rammarico di chi sa di avere perso un'occasione perché vedete questo è un provvedimento che certamente va nella direzione giusta, certamente è un provvedimento che in qualche maniera riprende i temi caldi della campagna elettorale che il centrodestra ha condotto vittoriosamente in occasione delle politiche che si celebrarono circa un anno fa e però è un provvedimento che ha il sapore di un compromesso al ribasso, un compromesso che è inevitabile quando a governare sono forze diametralmente opposte tra loro, quando a governare sono forze che condividono poco o nulla in temi come questo. Allora noi comprendiamo la necessità per gli amici della Lega di cedere su alcuni punti rispetto ai quali certamente non avrebbero dovuto cedere se avessero potuto comporre un governo con le forze di centrodestra e di questo si è avuta la dimostrazione plastica oggi e ieri in aula con i colleghi della sinistra allarmati, lanciare l'allarme appunto sul pericolo del fascismo, il pericolo del far west. E allora devo tranquillizzare i colleghi della sinistra perché in realtà nessuno dei pericoli che loro hanno paventato si realizzerà con l'approvazione di questa legge perché è una legge che fa poco e non fa tutto quello che si doveva fare. Fratelli d'Italia ha proposto degli emendamenti che dietro il dovuto tecnicismo quando si parla di riforme del codice penale mostravano la volontà precisa del nostro partito di tenere fede agli impegni assunti in campagna elettorale. Quali erano gli impegni assunti in campagna elettorale? Eliminare del tutto il criterio della proporzionalità? Certamente no. Eliminare il necessario baglio giurisdizionale? Certamente no. E sbaglia chi facendo propaganda dice che tutto questo cambierà. Sbaglia perché in realtà continua ad esserci un importante operato da parte dei giudici che però non avranno, come Fratelli d'Italia avrebbe voluto, una norma chiara, una norma precisa, una norma dai contorni ben definiti che non consenta interpretazioni di formi da un tribunale all'altro. Cito ad esempio il nostro emendamento sul tema della desistenza rispetto all'aggressione. Noi non vogliamo, ma ai noi ormai siamo arrivati alla fine e quindi il provvedimento è abbastanza chiaro su questo. Noi non avremmo voluto che l'aggredito in casa propria fosse chiamato a rispondere di un elemento psicologico sulla valutazione della desistenza, sulla valutazione della portata della minaccia. Non avremmo voluto che ancora un magistrato debba decidere se il turbamento è stato grave o poco grave. Noi avremmo voluto un provvedimento netto. Noi avremmo voluto un provvedimento che dicesse che quando si viene aggredito in casa propria la difesa è sempre legittima. È un modus operandi quello di procedere a riforme del genere che lascia il rimpianto di non aver potuto fare tutto ciò che si poteva fare. Allora noi lo voteremo. Lo voteremo perché comunque è un passo nella direzione giusta. Lo voteremo perché ne condividiamo l'impianto, ne condividiamo lo spirito. Certamente avremmo gradito da parte della maggioranza maggiore apertura al dibattito costruttivo che abbiamo condotto nelle varie fasi che hanno portato alla definizione di questo provvedimento. Tanti nostri emendamenti che avrebbero potuto migliorarlo sono stati bocciati. Questo, l'ho detto in apertura, è l'evidente frutto di un compromesso al ribasso. Fa piacere che anche il Movimento 5 Stelle si sia allineato alle posizioni del centrodestra perché, vedete, non è un provvedimento di destra. Lo sarebbe stato se fossero stati approvati i nostri emendamenti ma così non è. Allora è un provvedimento che rimane nell'alveo di un impegno assunto con gli italiani perché, vede, Presidente, per Fratelli d'Italia restano saldi dei principi molto semplici. Per noi l'impegno assunto con gli italiani vale comunque più di un contratto di governo. Ed ecco perché noi abbiamo contribuito alla definizione di questo provvedimento. Ecco perché noi lo voteremo. Perché ci teniamo che gli italiani sappiano che Fratelli d'Italia è sempre dalla stessa parte. Allora, a fronte di un allarme sicurezza che viene percepito in maniera sempre più forte, in maniera sempre più vigorosa da parte di tanti italiani che chiedono di poter stare al sicuro. È inevitabile che la politica si interroghi per capire quale strada intraprendere. Questi non sono spot e propaganda come erroneamente ha detto qualche collega della sinistra. Questi sono dati che l'Istat ha snocciolato nel corso di una ricerca presentata nel 2018. È una ricerca pubblica e invito tutti a prenderne visione. C'è un chiaro problema di sicurezza. Almeno così viene percepito dagli italiani l'attuale assetto in termini di tutela della proprietà privata, tutela dell'incolumità propria e dei propri cari. Allora è vero che il codice penale non è immutabile nel tempo. Lo dimostra il fatto che il codice penale è attualmente in vigore. Il codice ROC, approvato e varato molti anni fa, ha subito degli aggiustamenti per essere adeguato ai tempi che cambiano, per essere adeguato alle sensibilità mutate degli italiani. Ancora una volta noi, che adesso siamo dalla parte del legislatore, ci troviamo a misurarci con una mutata esigenza da parte degli italiani, con una mutata sensibilità da parte degli italiani. E noi a quella sensibilità vogliamo rispondere, non ad una logica di equilibri, di pesi e contrappesi tra forze del tutto differenti tra loro che oggi formano un governo. Ecco perché coerentemente col proprio percorso, coerentemente con le affermazioni fatte in campagna elettorale, al di là dei tecnicismi giuridici di chi vuole celare un problema reale, un problema sentito dagli italiani, Fratelli d'Italia in quest'Aula ancora una volta sarà al fianco dei cittadini, votando sì, convintamente a questo provvedimento. Ed ecco perché con piacere io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, ma con la consapevolezza di chi sa che anche in questa circostanza il Governo e in particolare gli amici della Lega hanno perduto un'importante occasione per completare un percorso che insieme in campagna elettorale avevamo annunciato di completare. Non è un caso che proprio su temi del genere il centrodestra, compattamente in Aula, abbia difeso questo provvedimento da attacchi pretestuosi, da attacchi strumentali da parte della sinistra italiana. Quindi Fratelli d'Italia voterà a favore, stando sempre dalla stessa parte che è quella degli italiani.